Torno alla Fano dei Cesarini, tanto attesa quest'anno la quarta edizione, ma ci sono davvero tante novità, prima di tutto il luogo. Sì, decisamente, tante novità, tante cose bollano in pentola, come si suol dire. Sì, il luogo, a differenza degli anni passati, che l'abbiamo fatto sempre qui a Sant'Orso, quest'anno abbiamo l'onore di poterlo fare in piazza 20 settembre, per noi è veramente un gran piacere, vedremo poi di far divertire il più possibile sempre le famiglie e i bambini presenti sul posto. Ovviamente i bambini saranno i protagonisti, ma quest'anno avete coinvolto anche associazioni, quindi insomma cose in grande. Sì, ecco, c'è stata così, l'idea un attimino di modificare un po' la scaletta, i piani tradizionali. Quest'anno abbiamo coinvolto i centri estivi, i centri aggregativi, parteciperà sempre l'Avis, che poi è la dedentrice del titolo della Corsa delle Bighette, però ci saranno anche altri così, tipo la battaglia per la Dea Fortuna, insomma, per mettere un po' diciamo competizione, ma non è così cattiva la cosa. In competizione comunque i centri estivi, questa battaglia dove i bambini si affronteranno, usando un po' il gioco dello scalpo per chi lo conosce, che con questa rincorsa al fazzoletto si determinerà il sopravvissuto. Dunque non mancheranno momenti di divertimento, di aggregazione, appuntamento in piazza 20 settembre, a partire da che ora? Dunque noi cominceremo con due mini sfilate dalle 18 lungo il corso per entrare in piazza 20 settembre, perciò direi dalle 18 ci sarà questa battaglia per la Dea Fortuna, ci sarà la Corsa delle Bighette, ci sarà uno spettacolo danzante di Mattia Diamantini, grande spettacolo del fuoco alla fine della serata, e il Trimalcino, questa cosa simpatica, lo stesso per tutti quei bambini che vorranno, ci sarà la possibilità di prenotarsi e usufruire della distribuzione cibo del burger. Io vi aspetto il mercoledì 20 luglio dalle 18 in piazza 20 settembre, rigorosamente costume romano, i bambini li ritengo da 0 a 90 anni, perciò sono adulto, non voglio essere... Ragazzi, ci siamo per divertire, non badiamo i numeri, il nostro successo sarà far divertire quelli presenti, possono essere 10 come possono essere 100, l'importante è che chi c'è se lo ricorderà.